Si chiamano Stefano, Noemi e Mattia. Sono tre ragazzi terramani affetti dalla sindrome di Down e nei prossimi giorni inizieranno a lavorare al bar dell'Università di Teramo. Mi piacerebbe fare il camioniere. La ballista? Il camioniere. Naturalmente avranno un tutor, diciamo così, aziendale, che sono gli stessi ragazzi dell'Università e un tutor dell'associazione che starà nei primi tempi ad osservarli, eventualmente a indicare quello che devono fare, quello che non devono fare. Poi una volta che sono partiti possono andare tranquillamente da soli. Ma quello che vorrei sottolineare è che io ho trovato in questa università un'accoglienza che è veramente del prodigioso perché ogni volta che noi siamo andati alle istituzioni, alla politica, a sociali in genere, abbiamo sempre trovato dei murri. Alvia così un progetto di inclusione sociale finalizzato a incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani affetti dalla sindrome di Down. Realizzare l'inclusione all'interno dell'Ateneo significa arricchire l'Ateneo di tutti coloro che riescono ad apportare delle diverse abilità e avere delle abilità colorate, delle abilità diverse non può che essere estremamente utile e proficuo per quella comunità di apprendimento che intendiamo realizzare nell'Università di Teramo. L'iniziativa, accolta dall'Ateneo su impulso dell'Associazione Teramana Ragazzi Down, è stata presentata al Rettore Luciano D'Amico da Fiammetta Ricci, delegata a pari opportunità dell'Ateneo Teramano. L'anno scorso ho premiato a nome di tutto l'Ateneo la signora Anna Maria Ponziani per il premio Donne in Prima Linea e da questo incontro veramente è nata una collaborazione e si è voluto dar seguito anche a questo premio perché non rimanesse solo un atto formale. La signora Ponziani immediatamente mi ha proposto questo inserimento, ne è nata una progettualità che il nostro magnifico Rettore ha subito sposato, fatto sua e siamo partiti già da giugno per arrivare ad oggi ormai ad una concretizzazione di questo bellissimo progetto. Presente, tra gli altri, l'assessore regionale alle politiche sociali Marinella Sclocco che ha apprezzato molto l'iniziativa. L'inaugurazione di questo bar gestito da questi ragazzi disabili darà la possibilità a tutti gli studenti di vedere che l'integrazione è possibile. Quindi è un buon esempio del Rettore, un buon esempio di tutto il Senato accademico per tutti i ragazzi iscritti. Grazie.